Dopo aver studiato i movimenti degli anziani, telefonavano fingendosi i nipoti e annunciando l'arrivo di un corriere con un pacco da pagare e ritirare. Con questo metodo, un'anziana di Castel del Monte è stata truffata. La donna, non avendo in tasca la cifra richiesta per il pacco del nipote, ha consegnato ai malviventi quattro anelli, una catenina, un paio di orecchini d'oro e la tessera del bancomat. Ma i carabinieri di Castel del Monte sono riusciti ad arrestare i truffatori perché traditi da due precedenti tentativi di truffa operati qualche minuto prima nello stesso paese. Nei due casi precedenti altrettante anziane non erano cadute nella trappola del pacco da ritirare e avevano avvertito i carabinieri. La pattuglia, arrivata in paese, ha incrociato la donna truffata che chiedeva aiuto in strada. Scattata la caccia all'uomo, i carabinieri hanno intercettato l'automobile dei truffatori e arrestato la fuga a Villa Santa Lucia. Recuperato il bottino lanciato dall'auto, i carabinieri hanno restituito il maltolto all'anziana vittima. Un reato disprezzabile è quello della truffa agli anziani, ha detto il comandante provinciale Nazareno Sant'Antonio, che raccomanda la massima prudenza nei confronti degli estranei. È molto importante, soprattutto nei paesi più piccoli, dove gli anziani spesso sono soli perché parenti e figli sono lontani, che si costituiscono una rete informativa in paese, che possono consultarsi con un vicino o che comunque possono anche rappresentare eventuali episodi sospetti al comandante della stazione. È molto importante segnalare qualsiasi persona sospetta, si noti in paese, al 112. Noi abbiamo la possibilità di inviare le pattuglie sin ai paesi più remoti e controllare presunti truffatori e i loro complici.